Dopo la pausa forzata a causa coronavirus riprendono i campionati di pallavolo nel weekend del 7-8 marzo, le partite si disputeranno a porte chiuse, il Valle Soverato sarà impegnato per l'ultima gara del girone di andata della pool promozione di A2 in attesa poi di recuperare la quarta giornata che era stata sospesa la domenica precedente. Il Valle Soverato sarà impegnato in trasferta contro Mondovì, una gara sicuramente difficile alla luce anche delle ultime vicissitudini prima della sosta forzata con la partita di Trento che purtroppo ha visto anche dei problemi di infortuni nel roster bianco-rosso. Sì, è una partita difficile già di suo, poi ancora più difficile per quelle che sono le condizioni del momento, condizioni esterne per l'incertezza che si è avuta fino adesso, condizioni più propriamente della squadra laddove ovviamente la partita con Trento ha lasciato un po' il segno. Il problema grosso secondo me per quanto ci riguarda è la gestione degli allenamenti, nel senso che la partita di Mondovìca è una partita di suo molto complicata, diventa ancora più difficile perché ovviamente in queste condizioni con l'infortuno di Silvana e di Vittoria a Repi ci facciamo un po' fatica ad allenarci. Stiamo lavorando molto sulla parte analitica, molto su discorsi insieme a un po' più tecnici, però è chiaro che ci manca un po' il segno contro sei e soprattutto quell'intensità utile a giocarsi partite così difficili. Detto questo comunque la partita se la andiamo a giocare, diciamo che noi non siamo nuovi alle difficoltà e all'avversità, abbiamo avuto il periodo con l'infortunio di Quarchioni, abbiamo avuto l'assenza di Silvana per la nazionale, siamo sempre usciti comunque fuori bene dalle situazioni difficili. Mi auguro che anche questa volta la squadra risponda a una situazione di difficoltà laddove sicuramente è una partita molto molto complicata. Allora presediamo l'avversario di turno, Mondovì staccato attualmente in classifica di quattro punti dal Soverato, anche se ha una partita in meno giocata rispetto al Soverato, una squadra costruita per fare un campionato importante e quindi sarà una partita ostica. Una squadra costruita per fare un campionato importante così come qualche altra squadra contro cui abbiamo giocato che ha avuto la capacità di mantenere un'intelaiatura con Rebora, Tonello, Zanetti e quindi Agostino il libero per cui fare gli innesti utili a quelli che servivano per il salto di qualità. Una squadra che nonostante questo ha avuto un andamento un po' altalenante con qualche battuta a vuoto ma che adesso viene da una serie positiva, non ultima la vittoria con Martignacco e soprattutto la vittoria 21 precedente a San Giovanni Marignano. Quindi una squadra difficile, con molti punti nelle mani, un po' come è stato con Trento, con tre laterali in grado di fare molti punti e con buone percentuali. Una palleggiatrice giovane che però ha già una discreta esperienza visto i tre scorsi con il Club Italia. Quindi una squadra che sicuramente è molto difficile da affrontare perché molto completa.